Ma siccome anche il tuo giornale racconta che pezzi di Forza Italia stanno pensando di puntellare questo governo con nuovi gruppi parlamentari, questo è solo un altro segno della dissoluzione di Berlusconi e del suo partito? No, penso che sia sicuramente un segno della difficoltà in cui si è cacciata Forza Italia. Io dubito che ci siano dei parlamentari eletti in Forza Italia disposti a sostenere questo governo perché se no non è che non tornerebbero in Parlamento nemmeno se Forza Italia dovesse rinascere e avere il 30% perché gli elettori li prenderebbero a calci nel sedere. Del resto questa cosa di parlamentari eletti col centro-destra che sostengono governi di sinistra è già successa e gli elettori hanno già mandato a casa quei signori, vedi Alfano, vedi Verdini, vedi Fini, no, li hanno mandati a casa in malo modo. Quindi se ci sono dei camicazze dentro Forza Italia magari qualcuno ci prova, ma non è un fatto politico, è un fatto di paure personali, di strategie personali. Io credo che Forza Italia è e resta l'unica forza moderata di centro-destra che è presente in Parlamento perché quella di Renzi in realtà è un partito di sinistra. Andiamo a vedere il curriculum di quei signori, sono dei signori convintamente di sinistra. Ma Alessandro Sallusti, direttore, ti devo ricordare però scusa che Mara Carfagna ha parlato qualche giorno fa di Forza Italia viva, per indicare una possibile unione di Forza Italia con il partito di Renzi. Dove di sinistra se Mara Carfagna pensa e molti altri o alcuni altri in Forza Italia pensano di andare con questo nuovo partito di Renzi? Ma questo mi sembra che sia un problema che riguarda Mara Carfagna più che Forza Italia perché non mi sembra che questa cosa abbia avuto un seguito, un'attenzione da parte dei suoi colleghi. Dopodiché Mara Carfagna non mi ha spiegato se lei, donna di centro-destra, va in un partito di sinistra o se immagina che un partito di sinistra entri dentro in qualche modo in Forza Italia. Entrambe le ipotesi sono assolutamente surreali, quindi anche in questo caso, secondo me, siamo di fronte a un problema personale che non è un problema politico. Cioè il partito di Renzi e il partito di Forza Italia sono semplicemente inconciliabili, anche se hanno, come dire... Aspetta, aspetta, ti fermo su questo. Inconciliabili De Angelis, Forza Italia e il partito di Renzi, Italia Viva?